Eccomi qua, sono nei pressi della libreria Miranfu a Trani e qui stiamo entrando per conoscere il libraio, il nostro caro Enzo Comelli che salutiamo. Grazie, buonasera a tutti, grazie Vittorio, sei un mito. Grazie per il mito, ma soprattutto sono qui per chiederti cosa avete combinato ultimamente per la città di Trani, ho visto che avete fatto una documentazione ampia per i piccoli, libreria per i piccoli. Vittorio, gli effetti del covid, visto che siamo stati tre mesi a casa, io e mia moglie abbiamo pensato di fare, terminare questo lavoro che portavamo, insomma erano tanti anni che ci stavamo dietro, una guida turistica dedicata a Trani per bambini e famiglie. Si chiama Benvenuti a Trani, le illustrazioni sono di Elisa Mantoni, i testi e le ricerche sono le mie, aiutato da tantissimi personaggi che abbiamo ringraziato all'interno del libro e ognuno con la loro competenza, con la sua professionalità ci ha dato una mano per renderla il più esaustiva, completa e bella possibile. Quindi uno vuole sapere qualsiasi cosa di Trani e la trova qui dentro, prima di tutto, le cose più esaurienti diciamo, le cose più indispensabili, le cose più belle, quello che abbiamo ritenuto più curioso. Abbiamo fatto un progetto nel periodo della quarantena, apprezzabilissimo quello di raccontare delle fiabbi a telefono, è un'apprezzabile iniziativa che ho ricordato più volte nelle mie trasmissioni. Questa volta siamo qui per essere omaggiati in prima persona di questa bellissima guida e che poi vi faremo conoscere al meglio. Una copia di questo libro, ci siamo incontrati stamattina, era messa da parte per Vittorio, che assolutamente la merita perché questa città la ama, la racconta e la vive a pieno in tutta la sua bellezza. Quindi Vittorio, una copia per te e soprattutto al tuo mitico papà. Grazie Nicola Cassinesi 78. Aspetta, 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 facciamo lì. A Vittorio e al mitico Nicola Cassinesi. Detto 78, luglio 2020, Enzo ed Elisa. Libreria Miranfu. Ricordiamo che la libreria Miranfu è qui, a Trani, zona Pozzopiano, esattamente in via... Via Pisa. Vittorio, una cosa curiosa che poi ti puoi divertire, guarda ci sono delle pagine, è tutta illustrata la guida, però ci sono delle pagine dove vedi, queste sono delle pagine dedicate alle chiese di Trani. Ce ne sono dieci, non potevamo metterle tutte, ne abbiamo scelte dieci. Ci sono delle pagine di adesivi anche, così i bambini possono staccare gli adesivi, posizionarli ed è un modo per interagire con la guida, ma anche per soffermarsi a guardarne i particolari con più attenzione. Quindi, completa di adesivi e tutto, è da completare anche, quindi interattiva, compratela perché, non perché l'abbiamo scritta... Va acquistata, va acquistata. Ha un costo di? Costa 14 euro, a nostro avviso li merita tutti. E dentro ci abbiamo messo tutto l'amore che abbiamo per la città, un modo per ringraziare la città per tutto quello che ci ha dato. La cultura per i piccoli, ma soprattutto per i grandi. Quindi, dalla libreria Miranfu, questa bellissima guida, e noi vi invitiamo tutti quanti a farne un buon acquisto. Grazie a tutti, grazie Enzo. A voi.